amici e amiche bentornati ci troviamo di ovvi su forse che manager 2023 con cosa ovviamente con il kaiser pronto a fare un piccolo antipasto prima dell'arrivo a ci hanno chiamato e di campionati europei ma evidentemente non per noi prima della dell'attacco a lombardia perché intanto vi ricordo una cosa molto importante ragazzi lasciare sempre un bel like al video iscrivervi al canale se lo avete ancora fatto attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni video mi raccomando ragazzi il commentino tattico sempre bene che ben accetto e da una mano al canale ma il video soprattutto a venire fuori dalla bolla c'è sono molti modi per supportarmi anche soltanto così va già già tanto potete tranquillamente fare abbonamenti qui su youtube abbonamenti su twitch e super grazie che su youtube regali pesche meno le miele no mi piaccio lasciamo perdere vediamo noi cose parliamo di cose serie il renne we tour il renne we tour non è nulla che il nostro france avesse potuto mai sperare di poter fare erano tutti arrivi tutti arrivi in volata si da caso però che noi non siamo così lenti ok e siamo riusciti ad ottenere dei grandi risultati qualche top 20 ma soprattutto una seconda posizione era proprio combattuta ma era un c'era mezzo centimetro di salita siamo riusciti ad avere quel quello scatto prima in più a serati secondi cosa più importante abbiamo attaccato quasi sempre nei nei traguardi volanti che erano piazzati uno a un metro dall'altro i quattro in fila siamo riusciti a fare tanti punti tanti da vincere la maglia di la classifica del miglior punteggio del renne we tour con qualcosa no vabbè ma l'abbiamo portata a casa quindi sono molto contento di sette punti tra l'altro quindi che non l'ha vinta un velocista ma l'abbiamo vinta noi è tanta roba ora noi siamo alla pretranche classica che vedremo insieme classico episodio di cui vedremo colpito se vendremo la tutto insieme la la corsa siamo insieme migliori che smeno a felix galler bouchard geoffrey isidore noah e kaiser france va bene l'obiettivo del live top five ho sbagliato scusatemi siamo comunque con un previsto picco di forma più due perché è un obiettivo e rientrava nella barra rossa ragazzi l'anno scorso non abbiamo fatto malissimo però ragazzi abbiamo conto van hight delì nella giornata milan mattie va da sé che si ci sono dei saliscendi ma io non credo che siano abbastanza per rendere la cosa diciamo così fattibile per noi mai dire mai mai dire mai e tuffiamoci allora due considerazioni state vedendo meno e più dovete prima di tutto scusate colpito se ci saranno non mi sta andando via ci sto prova non si può fare niente tornare da noi state vedendo meno episodi di football man di tipo secchi di manager perché come anche avete notato negli ultimi video il gioco mi sta un po stancando nell'ultimo anno i due giochi che giocato di più in assoluto su steam sono forse che di manager 2022 e 2023 quindi ho collezionato circa 300 ore in combinata e sono tante ore io lo faccio perché mi piace perché lo porto a voi perché è quello che mi ha permesso di arrivare ad avere un pubblico qui su youtube quindi per carità di dio è che ha dei problemi giustamente siamo i gregari di sempre è una roba è veramente allucinante vabbè però qua ci sta andiamo subito a fare un po di nostro lavoro il per quanto riguarda diciamo i rage perché abbiamo avuto negli ultimi episodi è colpa del gioco quindi tante volte mi vedete un po imbruttito ecco non lo vorrei essere questo imbruttimento ovviamente mi porta a divertirmi di meno mentre gioco è molto banale ragazzi è veramente è veramente così banale sì è veramente così banale mi diverto meno e divertendo vini meno o meno voglia di portare i contenuti su forse che di manager mi sembra molto evidente però era giusto che io ve lo facessi dire non ho dimenticato la carriera col kaiser purtroppo aveva avuto un anno che è stato devastato l'anno prossimo punteremo alle classiche se fosse non ci ammazziamo del mese giusto alla sale sale bianche magari in maniera un po diciamo così un po in maniera non mi viene in termine della parola comunque scaramantica ecco cercherò mai non faremo le strade bianche vediamo vediamo sinceramente però voglio arrivare essere pronto per quanto riguarda il l'anno prossimo arriviamo con una statistica più alta e sicuramente riuscireva a fare un mezzo livellino secondo me il prossimo abbia fatto un livello non abbiamo livellato nulla perché non era ancora disponibile dal prossimo sì quindi faremo un altro passo in avanti se arriviamo alle a lombardia così anche con solo un più due la statistica è veramente interessante se dovesse essere un più tre ragazzi io la butto lì a lombardia proviamo a vincerlo in lombardia per assurdo che era veramente il la classica che dico va non ce la faremo alla classica la monumento e diava non riuscirevo mai a vincerla come possiamo io io ci provo io ci provo e vi assicuro che se dovessimo riuscire a fare una roba del genere festa grande riusciremmo a salvare una stagione altrimenti di cui c'è poco da salvare e siamo a settembre non è ancora arrivata mezza offerta da parte di nessuna squadra quindi potenzialmente rischiamo di non è un altro anno ancora in ageter vediamo vediamo per quanto riguarda invece l'attualità ciclistica che chiaramente la stagione in pausa che sa per ricominciare ovviamente sulla bocca di tutti c'è trasferimento in puro stile calcistico di sianite box dalla bora alla fu jumbo visma ora visma renta bike renta bike mi sembra che si chiamano alla visma e tagliamo dalla tassa al toro ecco per quanto mi riguarda e lo dico da tifoso calcistico che ha seguito per una vita e continua a seguire calcio spero che non arrivi mai in momenti in cui anche nel ciclismo si possono fare questo tipo di trasferimenti chiaramente dovuto intervenire la usi a mediare tra le due squadre perché sian aveva un contatto ancora che doveva terminare l'anno alla fine del 2024 nonostante lui diceva che secondo i suoi legali poteva terminare prima del 2024 e lui già non si riteneva più un 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 corridore della della bora è chiaramente una mossa che posso dirlo sì lo dico va apparire sotto una brutta lente la jumbo la la visma io non è che delle simpatie particolari però per quanto riguarda rodice vingegaard ha sempre avuto un occhio di riguardo per entrambi il problema è che la visma in questo momento qui io ripeto l'anno scorso hanno fatto la storia per me quel che quell'accordo andava osteggiato da parte della usi se il contratto finiva e recitava 2024 doveva finire 2024 perché nonostante si siano affrettati tutti a dire che non fa precedente si non fa giurisdizione ma un precedente c'è quindi se qualcun altro campione magari si sentisse un po bloccato dalla sua squadra non top livello e volesse andare una squadra top senza aspettare alla fine del contratto sa che è successo quello che è successo con winter brooks perché se avessero stoppato completamente tanto accelerò più 8 a per 8 perché veramente lunga sta corsa nessuno si sarebbe mai sognato di dire ok allora aspetta potremmo farlo anche noi cosa che adesso può succedere ripeto è stato gestito dalla luci gli è stato comunque dato l'ok probabilmente la bora ha ricevuto un compenso per farla andar via si hanno dato caduto esido a mi mi dispiace ho accaduto anche vander per poi attenzione noi parliamo delle nostre cose è caduto matteo alla bora tra l'altro qui non è stato una bello non è stato un bel momento non è stato un bel momento come non è stato un bel momento quando consensualmente roglic e la bisma si sono si sono lasciati insomma hanno annunciato di non far più parte del progetto bisma e loro l'ha lasciato andare però almeno quello è intervenuto un accordo prima tra di loro poi lui da free agent si è andato da casare per i cavoli suoi da un'altra parte è comunque qualcosa che non la bisma ha creato uno squadrone incredibile forse non dico che non dovevano non dovevano crearlo per carità perché l'hanno fatto in maniera totalmente legittima forse non è non ha fatto nel lungo periodo rischia di non fare bene per questo sport ditemi cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti chiedo nuovamente perdono bene scuse per i colpi di tosse continui e imbarazzanti il gruppo le si è spezzato ma penso si ricomporrà molto a breve ah beh oddio molto a breve avevamo quasi un minuto da quelli davanti però adesso si sta ricomponendo è ok hanno fatto un po di fatica resta davanti ecco vedete qua con molto semplicemente con il nostro france siamo rimasti davanti senza tirare senza tirare restando dietro agli altri ma comunque nelle prime 20 posizioni non abbiamo dovuto far fatica adesso stanno ancora recuperando io devo andare a riprendere l'acqua no perché dovrebbe arrivare felix gall che è un bel e succoso più 5 conta poco perché andiamo a vedere l'arrivo e la salitella non è male se arriviamo a ridosso della fuga potremmo fare bene il problema che la fuga non la sto gestendo io bonnet ferron schultz will morts charim va beckham non si stanno accordando qua davanti spero che si sveglino gli uomini di chi deve vincere la gara e ripeto non c'è nessuno dei nostri compagni che è dato come vincitore tanto felix mi ha dato l'acqua ringrazio felix grazie per la borraccia noi siamo davanti 60 km dall'arrivo vediamo ok è arrivato qualcun altro dalle borra vedete che non stanno tirando siamo da ho perso il mouse ok siamo davanti ma nessuno tira c'è qua siamo qua con ben con mcnalti che forse adesso insieme a zambanini provano a tirare un po me la vedo molto difficile noi stiamo subendo un po di fatica come tutti del resto a parte j vine e paleni no anche paleni anche paleni però stando davanti ricerchiamo di spendere il meno possibile vediamo la fuga è a tre minuti ripeto questo gioco necessita di troppi improvement e l'anno prossimo nel 2024 studierò una stagione che sia un po diversa dal normale studierò una un inizio della forza e piste in un altro modo non tanto perché col case stiamo fallendo abbiamo già qua a quarto hanno fatto incredibili risultati per quanto mi riguarda ma perché abbiamo non abbiamo ricevuto diversi diversi upgrade diverse patch che hanno sistemato quella al gioco perché non si non andavano ad agire nei save già creati quindi io avendolo creato praticamente a ridosso dell'uscita aspettato solo una settimana quando è uscito il database world database siamo sempre un po stati castrati gli anni scorsi non è stata così non era così castrante ecco intanto inizia il tratto di saliscendi noi siamo un po in fatica perché stanno tirando a tutta vedete c'è qualche ma night mori c'è per dare sono tutti quale io lo so tirando su bright verli e per 60 tutti qui a io ci è arrivato davanti ma c'è anche due minuti in tanti di voi mi hanno commentato che si sono si lamentano molto vi siete lamentati molto della del fatto che le fuga arrivavano sempre spesso però vedete adesso qua siamo a una cosa di alto livello non succede dovrebbero averlo fixato e sistemato quel problema diamo un attimo di attenzione a quello che sta succedendo qui poi ragazzi pensavo a 12 chilometri dall'arrivo noi siamo molto in difficoltà con la barra gialla dobbiamo essere quasi chirurgici non possiamo chiedere a nessuno di tacino mano cosa ne fa ha preso quattro minuti prendiamo ben meno due j vai ne messo peggio nei solo per di scale messo meglio attenzione parte turgis con nissen manai alla filip letale io mi metto a seguire questi qua ok io vorrei seguire but forse no forse non mi conviene seguire qualcuno in particolare e sarebbe anche il caso che il team mi lasciasse libero da libero battitore non da gregario caduta di gregoire che poteva essere importante che abbiamo ancora 29 secondi abbiamo un ultimo saliscendi quindi occhio alla diavolo di penna potrei prendere il genere energetico un pelino prima jonathan minan prova già adesso a partire attenzione 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 noi abbiamo preso il gelino ci lanciamo anche noi caganda se in parte siamo qualche combetti ol occhio perché qua abbiamo recuperato tutti la fuga riva è stata recuperata potevamo provare rischiare la partenza ma non avremmo avuto il tempo per stare davanti poi vediamo abbiamo scollinato a leggera discesa ci dà già la fuga lallo scatto io provo ad azzardare non una partenza così presto ma sì ma sì vediamo con van harte vediamo se treno vood van harte ci sorpassa si pianta anche van harte siamo partiti prestissimo abbiamo tratto in inganno vood van harte signori abbiamo tratto in inganno vood van harte arriviamo alla fine della fiera diciottesimi valvut solo tredicesimo vince anthony turgis con grande assente perché non lo vedo van der poel eh sì è arrivato timo kielisch van der poel abbandona di te la di gregoa che si è fatto proprio male ci abbiamo provato fossimo arrivati un po più freschi però veramente erano erano difficilmente battibili quindi arrivando ai risultati vediamo che ha vinto anthony turgis velocista sprint assolutamente quindi ripeto non abbiamo fatto secondo me una brutta prestazione ci dà ovviamente l'obiettivo del lavoro portato a termine non ho messo per me dimenticanza l'abilità lo mettiamo insieme adesso ragazzi abbiamo riempito quello che ci serviva potremmo riempire picco di forma secondo me sì possiamo metterlo qua in picco di forma perché non si può mai sapere il prossimo livello lo mettiamo in forza di volontà giusto giusto così per dire e nell'attesa che ci arrivi un'offerta perché ripeto io ragazzi guardate lo guardiamo insieme al volissimo contratto non è arrivato niente nonostante la 1x e la alpesin sono abbastanza interessate come ovviamente la gdr di di tenerci vediamo vediamo quello che vogliono fare i ragazzi sarebbe l'offerta della alpes in l'accetto la 1x sarà difficile perché è arrivata una notizia per cui tirano indietro il budget quindi sarà molto complicato noi purtroppo non abbiamo portato grandi punti quest'anno perché abbiamo fatto poche gare importanti e abbiamo avuto quell'infortuna che ci ha tolto la stagione delle classiche adesso avremo la gampi se chiese montreal la gampi di sbeg e il campionato europeo che non ve lo farò vedere penso sia totalmente inutile ci vediamo ragazzi quindi stavolta si a lombardia posso anche portare andare a simulare queste gare perché abbiamo già fatto il livello non arriveremo oltre per poter sistemare diciamo come allenamento per poter arrivare a a fare quello che vogliamo fare come livellamento fare 300 punti sono troppi dovremo essere un po più accorti e allenare subito quello che ci interessa all'inizio dell'anno prossimo ma per la quinta stagione o meglio per il lombardia doveva attendere il prossimo episodio quindi ragazzi lasciate un bel pollicione su se non l'avete ancora fatto e noi con il Kaiser ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi